Federico Livo, cofondatore della Vistra, importante azienda del Friuli Venezia Giulia che opera a livello nazionale ed internazionale, si occupa di servizi di qualità sicurezza ambiente ma sarà Federico che spiega meglio di me le qualità della Vistra, un'azienda molto interessante che sta facendo un percorso estremamente qualitativo anche dal punto di vista dell'attività di marketing, della comunicazione e delle vendite. Federico, di cosa si occupa la tua azienda e quali sono i valori aggiunti che sono tangibili e offre al mercato e ai clienti? Come hai detto tu Andrea, Vistra si occupa di qualità ambiente sicurezza, la peculiarità della nostra organizzazione è che nel corso della nostra storia abbiamo cominciato a lavorare con delle società italiane che lavorano a livello internazionale e abbiamo imparato a fare questo mestiere in giro per il mondo che è un mestiere diverso e viene normalmente considerato con il nome di QHC internazionale quindi Quality Health and Safety Environment e questi sono i servizi che noi andiamo a offrire alle più importanti aziende italiane che affrontano dei progetti a livello internazionale. Questo è se vuoi anche uno dei caratteri distintivi per cui siamo una delle poche se non un'unica azienda in Italia in grado di offrire questo tipo di servizio. Ecco questo è un tema estremamente interessante quando siamo conosciuti qualche anno fa io con il mio team ho visto subito i valori aggiunti di questa azienda. Oggi quando si parla di marketing, quando si parla di sviluppo commerciale uno dei primi problemi è che le aziende sono indifferenziate cioè tutti gli imprenditori sono più o meno ambiziosi ma spesso c'è il problema che l'azienda ha la grande difficoltà di spiegare al mercato perché dovresti scegliere me. Nel caso di vista questo problema non sussiste perché c'è un know-how specifico che esiste solo in questa azienda tale per cui la complessità perché vorrei che anche tu spiegassi un attimo su alcuni servizi proprio il concetto di complessità quanto impegnativo è per voi dare un servizio aggiunto ai clienti. La complessità dell'attività che fa la vista e che deriva dall'importanza dei problemi che risolve ai suoi clienti è sostanzialmente il primo elemento di differenziazione che possiamo mettere nel tavolo come marketing quindi quando dicevo prima abbiamo iniziato il rapporto siamo partiti da qui cioè non abbiamo dovuto ne parleremo tra poco creare grandi cose dal punto di vista di prodotti di frontend di angolature perché c'era già nella storia nel percorso fatto dall'azienda il punto di partenza da dove attingere ecco quanto importante è federico soprattutto per il target di clientela che servite poter entrare da un cliente e dire beh guarda guarda l'expertise che ho guarda che cosa ho fatto per aziende come la tua in che modalità e con quali elementi differenzianti rispetto ad altri. Il fatto di poter vantare un portafoglio di referenze prestigioso è sicuramente molto importante soprattutto in un servizio che sostanzialmente è nuovo sul mercato infatti uno dei problemi che noi abbiamo affrontato non è tanto quello della differenziazione e dell'avere qualche cosa che ci distingue rispetto alla concorrenza ma portando un prodotto pionieristico sul mercato è stato anche quello di farne comprendere il valore aggiunto e di far pervenire il messaggio alle aziende che sono impegnate sul fronte internazionale di quali sono i rischi che corrono se non si preoccupano in modo adeguato delle problematiche di QHC internazionale. Vi faccio qualche esempio per essere concreto. Benissimo, per chiedere così facciamo capire ai nostri amici di che cosa si tratta concretamente l'attività quotidiana, no? Se un'azienda è impegnata in un bando di gara internazionale e ne possiede le capacità tecniche, tante aziende italiane hanno veramente un know-how incredibile nel settore dell'impiantistica, dell'automazione, dell'edilizia. Tuttavia oggi operare sui mercati internazionali soprattutto su quelli dei paesi emergenti che vedono anche molto spesso la partecipazione delle banche di sviluppo come l'IBRD, l'IFC che pretendono un livello di professionalità, di organizzazione degli standard elevatissimi anche per quello che riguarda la qualità, l'ambiente e la sicurezza e in generale l'aspetto di CSR che diventa anche uno dei requisiti che fa un po' da cappello al qualità, ambiente e sicurezza. Quindi parliamo di responsabilità sociale d'impresa. Per cui alle aziende italiane viene richiesto un aspetto sempre più complesso, non solo sei capace di costruire quella diga, sei capace di costruire quella ferrovia oppure quello stadio in quel determinato posto, ma anche quali saranno le tue politiche di recruitment sul luogo di lavoro, quali saranno le ricadute su quel paese, come fai a garantire che la sicurezza dei tuoi lavoratori sarà conforme non solo alle legislazioni italiane ma anche a quella locale oppure ai requisiti contrattuali. Ecco, questi aspetti tante volte vengono sottovalutati ed è un problema importante perché se costruisci una proposta commerciale per un bando di gara basandoti sui costi tipici della sicurezza sul lavoro del mercato italiano, potresti prendere un abbaglio, potresti stimare un 2% costruendo il tuo preventivo e trovarti alla fine a un costo effettivo anche superiore al 10%. Con i margini così ristretti rischi veramente di saltare per aria. Questo è uno degli esempi, ma le problematiche nei lavori internazionali possono essere all'inizio quando tu decidi di metterti in gioco su questo ambito e anche quando magari ti è già stata giudicata la gara, nella fase di progettazione in cui ti dicono tu stai spendendo già molto per fare il tuo preventivo, per fare la progettazione finalizzata alla definizione di un prezzo, ma poi quando presenti e hai già investito molto in progettazione, quando presenti la gara ti chiedono un safety plan, un environmental plan e se questi aspetti che chiaramente non sono il tuo core business non vengono curati in modo adeguato comunque possono essere dei go no go per quanto riguarda la giudicazione dell'appalto. Oppure mentre stai facendo il lavoro ti mancano le professionalità per poter implementare sul campo tutte quelle che sono le procedure che servono per gestire questi aspetti. Ecco noi interveniamo in questo senso anche con dei team specifici multinazionali per dare un supporto concreto all'azienda. Questo tipo di lavoro per noi ha significato un'enorme complessità non solo dal punto di vista tecnico ma anche organizzativo perché quando ti impegni a livello internazionale vuol dire che devi avere delle assicurazioni che ti coprono in tutto il mondo, che sono capaci di coprire te e anche tutti i collaboratori anche internazionali che sono coinvolti nel progetto. Vuol dire sapere gestire la logistica delle persone che va in tutto il mondo, problematiche di visti, vaccinazioni, problematiche di security perché tante volte si va in paesi dove non ci sono le stesse condizioni in cui noi operiamo in Italia. Quindi questa forte complessità e questa novità di servizio ha trovato un ostacolo nel riuscire a essere comunicata. Molte aziende non avevano la consapevolezza di questo rischio o dell'importanza di questi aspetti per cui per noi si è manifestata la necessità di riuscire a comunicare al cliente quanto sia importante curare questi aspetti. Questo è un aspetto fondamentale che mi introduce ad un tema estremamente importante cioè è tipico di moltissimi mercati, di moltissimi business, il tema dell'acculturamento del cliente cioè voi lavorate in un business per il quale in moltissime aziende, anche grandi, anche grandissime, con fiorfiore di staff interno c'è tutta una determinata problematica di gap culturale che deriva dal fatto che oggi quell'azienda aveva un cantiere nei Emirati Arabi però domani mattina ha un primo nuovo cantiere in Azerbaijan e quindi si presentano difficoltà nuove, mali di pancia nuovi. Ecco che su questa complessità Vistra ha creato nel tempo il suo know-how, i suoi valori differenzianti, corretto? È un lavoro che ha richiesto moltissimi investimenti in particolare viaggi e relazioni per comprendere i paesi dove andiamo ad operare per conoscere i referenti locali, per trovare delle partnership locali che ci mettono in grado di dare una risposta pronta ed efficace al cliente. Di solito io prima ho rappresentato alcuni step, l'ideale sarebbe preoccuparsi di questi aspetti in fase decisionale vogliamo partecipare a questa gara o meno, vogliamo aprire uno stabilimento in quel paese o meno. Spesso il problema nasce o la richiesta di intervento nasce quando c'è il problema e quindi lì bisogna intervenire in maniera molto molto veloce. Dicevo la problematica che abbiamo trovato però è quella di riuscire a comunicare e ad acculturare. Abbiamo scoperto che questa è una missione veramente impegnativa che richiede di andare oltre quelle che sono le tecniche di vendita tradizionali. Abbiamo dovuto veramente considerare che cosa potevamo fare in più per riuscire ad avere un cliente più consapevole nel momento in cui ci fossimo seduti al tavolo con lui per parlare di queste tematiche. Benissimo, questo è un grande capitolo, un grande tema. In che senso? Oggi un'azienda come la Vistra che, parentesi, è fatta di una proprietà e un top management, mi permetto di dirlo, superiore alla media delle piccole e medie imprese italiane dal punto di vista della cultura, dell'approccio, perché hai appena citato un esempio estremamente chiaro. Oggi il protagonismo attivo degli imprenditori, lo sforzo personale da fare in termini di comunicazione, perché far capire ai clienti che ci sono determinate problematiche a casa loro e che tu poi dopo puoi offrire delle soluzioni per, significa mettere in piedi come è stato fatto contenuti, blog, piano editoriale, un team internazionale in questo caso specifico, che ognuno nel suo paese ha prodotto dei contenuti impacchettati, messi a disposizione del mercato potenziale. Questo solo ed esclusivamente per acculturare, perché ricordiamoci, tipico di altri business, il business della Vistra è un business tale per cui tu puoi entrare da un cliente in qualsiasi momento, nel senso che i tuoi clienti potenziali possono aver bisogno di te oggi, oppure caso che accade ancora più di frequente, il no oggi diventa un sì tra tre mesi. Quindi il marketing di un'azienda come la Vistra, il marketing di un'azienda che può acquisire il cliente nel tempo, perché sono molti i momenti durante l'anno e negli anni che puoi entrare in quell'azienda, deve essere caratterizzato da una continua e metodica e sistemica attività di relazione con il cliente potenziale. Quindi Federico, un passaggio veloce su quanto è importante a livello marketing creare dei contenuti, veicolarli con continuità verso il mercato potenziale, proprio perché l'azienda che mi ha detto no tre mesi fa, oggi acquisisce un cantiere e per il motivo che dicevi tu prima, oggi per domani si apre un'opportunità che non c'era all'orizzonte poco tempo prima. Mi chiedi Andrea di fare un passaggio veloce su una cosa però che dovrebbe descrivere quanto c'è da fare, perché effettivamente le cose da fare per ottenere questo risultato sono davvero molte. Noi ci siamo resi conto che, come dicevo prima, il metodo tradizionale di vendita in cui fai una chiamata a freddo, ti presenti dal cliente e dovresti essere così fortunato da trovarti nel momento in cui ha bisogno e si rende disponibile a sperimentare, a dire ti do fiducia per questa mia necessità, è un metodo che forse funzionava vent'anni fa, oggi vanifica davvero gli sforzi, diventa molto più difficile riuscire a trovare dei clienti in questa metodologia. Per questo motivo bisogna comprendere che il tempo che è necessario per costruire questo tipo di relazione con la clientela è un tempo necessariamente lungo. Ci vogliono almeno due o tre anni di comunicazione continua, di creazione di contenuti. Tu devi riuscire a generare e a regalare del valore sul mercato, del valore aggiunto, devi creare dei contenuti che destino effettivamente l'interesse, che diano qualcosa e che non saranno sicuramente quelli a determinare il fatto che siccome gliel'hai detto non lavorerai più. Quello sarà sicuramente una parte di quello che tu conosci. In base a questo le persone quando conosceranno i tuoi commerciali, nel momento in cui il tuo commerciale si siederà di fronte a questo potenziale cliente, non avrai bisogno di dirgli chi sei, che cosa fai, come la pensi e qual è il tuo approccio per la deduzione di determinati problemi. Perché il marketing sarà arrivato prima. Sarà arrivato prima e tu dovrai solo parlare di qual è effettivamente il tuo problema e come possiamo aiutarti. Per arrivare a questo risultato è necessario avere veramente un grande impegno e non vuol dire solamente investire, pagare dei consulenti seppur bravi che non possono fare miracoli. La prima cosa che viene richiesta è sicuramente il commitment della direzione che deve essere il primo sponsor di questa modalità operativa. Con un impegno diretto deve anche metterci la faccia e deve spronare continuamente tutti i collaboratori a dare voce a questa comunicazione verso l'esterno. Perché è chiaramente un aspetto nuovo che deve entrare nella modalità di lavoro e di comunicazione di tutti i membri dell'organizzazione. Per cui la creazione di articoli che devono essere pubblicati su un blog, l'individuazione di contenuti interessanti da sponsorizzare sulle newsletter, la creazione di filmati che possono spiegare determinati concetti. Sono tutte attività che vanno gestite con una schedulazione precisa, vanno seguite, bisogna investire per arrivare pian piano a costruire questa consapevolezza nell'interlocutore. Guarda, io ti ringrazio perché stai dando un messaggio molto pulito. Infatti la chiusura di questa video intervista, di questo scambio è da qualche anno che lavoriamo insieme. Ti chiedo se ritieni che siamo delle persone che hanno dato un contributo, ma quello che hai detto poc'anzi è la chiave. Cioè tu puoi prendere chi vuoi come consulenti, come agenzie eccetera, ma il commitment interno è fondamentale. Quindi l'ultimo passaggio è ti senti di consigliare la nostra azienda, abbiamo lavorato bene, abbiamo dato un contributo a questo percorso che è un cantiere aperto. Mi interessa che questo, voglio dire, la tua opinione la diciamo senza problemi di sorta al pubblico perché siamo molto puliti e trasparenti nel rapporto. Se parliamo di qualche cosa parliamo di contributo perché il messaggio che io voglio dare è l'azienda se non è protagonista non otterrà dei risultati. Quindi il marketing va benissimo, sa da fare, ma va fatto in questo approccio. Tu hai parlato di anni, hai parlato di impegno, hai parlato di non solo investimenti di danaro, quindi hai detto tutto ciò, hai anticipato le mie domande, non ne ho altre. Volevo solo che tu dessi un messaggio finale sostanzialmente per testimoniare un po' il lavoro che abbiamo fatto insieme e sostanzialmente se ritieni che la nostra struttura abbia dato un contributo alla vita di Vistra. Evidentemente la tua comunicazione è stata efficace in questi anni di collaborazione. Sei diventato un marketer, te lo sto per dire prima. Abbiamo assorbito sicuramente questi concetti. Quello che più ha portato valore aggiunto da parte della vostra organizzazione è sicuramente l'aspetto di essere un team strutturato in cui possiamo trovare varie expertise che non sono presenti in un'azienda delle nostre dimensioni. Ricordiamo noi siamo una PMI con un fatturato intorno ai 2 milioni e mezzo in questo periodo che non è trascurabile ma si vuole bene un'ottima performance in crescita. Certamente i nostri target sono più importanti per riuscire proprio ad avere internamente una determinata struttura, ben consapevoli che comunque non potrai avere tutte le figure che servono nel marketing, quindi il copywriter, l'esperto di strategia, tutte le figure che invece possono essere messe a disposizione dall'ipogrifo nel momento in cui sono necessarie portando il vostro supporto dall'esterno. Uno degli aspetti che più ho apprezzato è la partecipazione diretta che avete portato con gli elementi direttivi dell'ipogrifo e il non avere peri sulla lingua, nel senso che mi ricordo che in qualche riunione non ci sono stati problemi a dire cari ragazzi non funziona, le cose non stanno andando bene, Andrea, Federico dovete mettervi in gioco di più. Non abbiamo bisogno di yes man a pagamento, abbiamo bisogno proprio di qualcuno che ci tiri per la giacchetta quando le cose non stanno funzionando e che si comporti proprio come un membro del team nel dire ragazzi non ce la stiamo facendo, quello che abbiamo fatto non funziona, bisogna cambiare mettendosi in gioco assieme a noi nell'ottenimento del risultato finale. Bellissimo bellissimo messaggio, io ti ringrazio, naturalmente sono tutti messaggi molto lineari, il lavoro da fare è molto e continuo, il cantiere è sempre aperto, il marketing è un asset dell'azienda, implica un lavoro continuo, poi ci sono le fagi, ci sono gli step, ci sono gli obiettivi, ma il tema è abbiamo capito quanto importante sia il coinvolgimento delle persone e farsi affiancare da chi entra in un gruppo di lavoro che diventa più grande di quello che un'azienda come la vostra potrebbe avere per ovvi motivi. Federico, grazie mille, sei stato gentilissimo, molto chiaro, abbiamo uno speaker prossimo per i nostri eventi perché Fede è bravissimo, grazie ancora e buon marketing, buon business e buon lavoro di cuore. Grazie mille.